nulla accade per caso su questo mondo mai pensate che il mondo delle coincidenze è qualcosa di incredibile purtroppo il problema di la maggior parte delle persone e che non sanno riconoscere che cos'è una coincidenza o pensano che se magari tu fai un viaggio arrivi dall'altra parte del mondo scendi e trovi al nastro di fianco dei bagagli in tuo compaesano dici tocca coincidenza anche tu qua non è una coincidenza cosa coincide cosa deve coincidere ci devono essere due fattori che coincidono ma fattori che devono dipendere uno da te e l'altro non da te per esempio in questo caso della discesa in aereo potrebbe essere che tu pensi mentre l'aereo sta atterrando chissà che fino a fatto quel mio compaesano che tre anni che non vedo e poi arrivi e lo trovi che prende le valigie nel tuo nastro di fianco quella è una coincidenza anzi si chiama coincidenza premonitiva il mondo delle coincidenze è qualcosa di straordinario di magico e a ogni essere umano accadono coincidenze importanti chiamate significative coincidenza significativa dettata dal grandissimo psicanalista carl gustav jung il quale disse che c'era anche un sincro destino un destino che si sincronizza nella tua vita e dove se tu riesci a prendere a captare questo significato plani surfi su questo mondo e non ne esci più un flusso meraviglioso di esperienze c'è uno studio americano che dice che noi abbiamo circa otto coincidenze importanti al mese che ci danno le indicazioni per dove andare cosa fare dove essere quanti di voi sanno riconoscere o si accorgono che hanno otto coincidenze importanti al mese per esempio le coincidenze poi bisogna classificarli bisogna suddividerle abbiamo le coincidenze di gruppo le coincidenze numeriche abbiamo le coincidenze premonitive le coincidenze di salvamento di vita le coincidenze di morte le coincidenze di vita parallela ma per poter ammettere una vita parallela a qualcun altro dobbiamo avere dei riscontri dobbiamo avere qualcosa che possa confermare che la mia vita a tanti e tanti di quei accadimenti che sono identici a quella che è accaduto un'altra persona bene vorrei darvi un esempio incredibile di coincidenza di vita parallela e voglio andare a disturbare la storia così magari potete anche andare a controllare se ho detto una cosa vera o non vera anche se ricordatevi sempre che tutto quello che io racconto è sempre vero ebbene attenzione questa è la coincidenza di vita parallela dei due più grandi presidenti degli stati uniti d'america abramo lilcon e johns fgerald kennedy questi due grandi presidenti penso i due più grandi della storia di questo enorme paese hanno avuto una serie incredibile di fatti identici accaduti e adesso ve ne dico solamente alcuni tra i principali siete pronti abramo lilcon è stato eletto al senato degli stati uniti nel 1849 johns fgerald kennedy nel 1949 cento anni dopo abramo abramo lilcon diventato presidente nel 1861 kennedy nel 1961 cento anni dopo abramo lilcon aveva un vice presidente che si chiamava johnson kennedy aveva un vice presidente che si chiamava johnson il vice presidente di lilcon si era nato nel 1809 il vice presidente di kennedy era nato nel 1909 cento anni dopo tutti e due i presidenti vennero assassinati di venerdì tutti e due i presidenti avevano a loro fianco la loro moglie che tenne tra le loro mani il capo cosparso di sangue tutti e due i presidenti furono uccisi con un colpo alla nuca l'assassino di lilcon che si chiamava john boot sparò dentro un teatro e andò a rifugiarsi in un deposito l'assassino di kennedy sparò da un deposito e si rifugiò dentro un teatro il teatro dove venne ucciso lilcon si chiamava teatro ford la macchina su cui venne ucciso kennedy era modello lilcon della casa produttrice ford la principale collaboratrice di lilcon si chiamava signora kennedy il principale collaboratore di kennedy era il signor lilcon tutti e due gli assassini sono stati uccisi prima di arrivare al loro processo tutti e due gli assassini sono stati uccisi con un unico colpo di proiettile esploso da una pistola colt ebbene questa è una delle principali casistiche ma ce ne sono 72 che sono state segnate dagli storici per quanto riguarda la vita e le coincidenze di questi due grandi presidenti ricordatevelo nulla accade per caso a volte ci sono degli universi che si sovrappongono e ripetono esattamente quello che deve accadere nuovamente questo accade anche in natura rupert sheldrake grandissimo studioso aveva scoperto quello che si chiamano le onde morfogeniche ma di questo ne parliamo un'altra volta ciao a tutti dal vostro marco cesati cassin a presto